La società della battipagliese calcio rende noto che la gara contro il Sant'Agnello in programma domani alle ore 15.30 al campo dei Pini di Sant'Agnello è valevole come sesta giornata del campionato di eccellenza a Girona B, si giocherà a porte giuse secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato. Pertanto la società battipagliese invita i propri sostenitori a non seguire la squadra al Sant'Agnello per motivi di ordine pubblico. Intanto mister Pietro Pinto ha una buona notizia dall'infermeria. L'attaccante Fosso Piccirillo dopo i pochi minuti disputati a causa di un infortunio alla capiglia è recuperato ed è a disposizione. Domani dovrebbe essere schierato titolare.